Meggiugorie e l'amore di Maria e questo è il titolo del libro scritto da Rita Sberna. Ottanta pagine in cui la giovane San Cataldese racconta la sua esperienza a Meggiugorie e l'incontro con la madre di Gesù e il suo amore. Un libro che contiene anche racconti di pezzi di vita di una ragazza poco più che ventenne che dopo il primo viaggio a Meggiugorie ha vissuto un forte cambiamento da più punti di vista. La prima fatica letteraria di Rita Sberna vuole, secondo le intenzioni dell'autrice, trasmettere l'amore di Maria ed essere un biglietto da visita per tutti quei cuori che hanno conosciuto Dio o che ancora non conoscono il suo grande amore. Proprio per documentare e trasmettere agli altri le sensazioni legate ai due viaggi a Meggiugorie Rita ha scritto un libro denso di contenuti, di racconti e soprattutto di fede. Dopo aver messo nero su bianco se stessa e la propria vita la ventenne San Cataldese parla dei segni e dei messaggi con cui la Madonna si fa presente nella vita dei fedeli e parla dell'incontro con il suo attuale fidanzato che le ritiene voluto proprio da Maria. Meggiugorie l'amore di Maria verrà presentato sabato 26 gennaio a Caltanissetta alle ore 18.30 nei locali della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno di via Francesco Crispi. Alla presentazione parteciperà Don Mario Pieracci, sacerdote e collaboratore Rai e ci sarà l'intervento tra tanti anche di Ottavio Chiavaroli, protagonista di Un Miracolo Francescano, di Giuseppe Cartella, coordinatore dei gruppi di preghiera della Regina della Pace, di padre Piero Riggi, viceparroco della Chiesa di San Pietro e di padre Enrico Schirru, cappellano del carcere di San Cataldo. L'esperienza di Rita Sverne e del suo libro saranno protagonisti di uno speciale in onda su TFN al termine del telegiornale. Il libro nasce dal desiderio di fare conoscere a tutti quanti che l'amore di Maria è grande, che Maria non è mia madre semplicemente, Maria è la mamma di tutti noi, di ognuno di noi. Come accetta le mie preghiere, accetta le tue preghiere, accetta le preghiere di tutti allo stesso modo. Quindi io toccando con mano la grazia di Dio in questo luogo veramente graziato da Dio perché a meggiugori il cuore ti si apre veramente alla preghiera. La preghiera non fatta quella con le labbra, ma la preghiera quella fatta col cuore. Sono partita con la voglia di dimostrare che Maria esiste, che Maria appare da 31 anni proprio per chiamarci alla conversione e io con questo libro voglio condividere con tutti la mia esperienza.